pietro pizza pietro è di cattivissimo umore stava per andare a giocare a pallone con gli amici ed ecco che si è messo a piovere il suo papà non ce la fa a vederlo così triste allora pensa di tirarlo su e di farne una pizza così lo stende sul tavolo della cucina e comincia ad impastarlo ben bene lo tira di qua lo tira di là ora la pasta va girata e lanciata per aria poi una bella spruzzata d'olio d'oliva veramente acqua ora un po di farina ma è borotalco adesso qualche pomodoro sono le pedine della dama ma pietro scappa da ridere quando mamma dice che non li vuole i pomodori sulla sua pizza bene dice papà niente pomodori solo formaggio sono pezzetti di carta che ne dici di qualche fettina di salame pietro pietro però non può rispondere è solo pasta di pizza ma quando alla pasta si fa il solletico ride come una matta le pizze non ridono dice il papà e i pizzaioli non fanno il solletico alle pizze risponde pietro bene dice papà è ora di mettere la pizza in forno ecco adesso la nostra pizza è calda e squisita papà porta la pizza in tavola e ora tagliamola dice ma la pizza scappa via e il pizzaiolo la insegue la pizza è catturata e tenuta stretta ecco che spunta il sole dice la mamma così la pizza decide di andare fuori dai suoi amici la pizza è catturata e comunque è l'abbiamo